Musica Ben ritrovati amici sportivi amanti del calcio femminile un saluto da Riccardo Buffetti a Rezzo TV nuovamente insieme per seguire per il quarto anno consecutivo le avventure dell'Arezzo calcio femminile che dopo il 2 a 2 contro l'Empoli due settimane fa Mister Voci proverà a dare continuità ai risultati quest'oggi contro il Cittadella per l'ottava giornata del campionato nazionale di Serie B l'ultima gara casalinga dell'anno 2018 dunque dopo una settimana di stop si torna a giocare nel campionato di Serie B che vede l'Arezzo penultima in classifica con un solo punto conquistato appunto due settimane fa contro l'Empoli gara terminata 2 a 2 mentre il Cittadella naviga nella metà classifica con 12 punti un campionato sin qui coerente con le aspettative da parte della squadra Granata viene dall'1 a 1 contro il Cesena mentre l'ultima in trasferta ha ottenuto il 2 a 1 contro il Genoa mentre l'Arezzo l'ultima gara casalinga non è riuscita a fare l'impresa al Cittadella-Arezzo contro l'Inter terminata poi 3 a 0 quella partita all'indietro Moscia ancora liberare Baldo Teci in mezzo a 2 cerca la giocata su Razzoli sulla sinistra prova ad andare Razzoli in avanti Razzolini si fa ben vedere duella poi con Schiavo ancora Razzolini siamo sull'auto di sinistra c'è canseria di finte Razzolini va verso il fondo può andare al cross che arriva in questo momento il traversone il copo di testa provato da Mencucci traversa e poi la salva sulla linea Baldo ancora Mencucci ma grandissima occasione da parte dell'Arezzo con la traversa colpita da Mencucci grandissima progressione invece di Razzolini sulla sinistra con il cross al bacio per Mencucci Aterini il suo rinvio è centrale nella zona di Rigon Yeboa Zorzan portata sull'esterno da Mosha ancora Rigon sul destro il tocco per Yeboa posizione regolare Yeboa e arriva l'1-0 del Cittadella targato Yeboa che al limite del fuorigioco è riuscita a battere Antonelli grande serie di passaggi al limite della rigore fra Rigon e Castrati poi il tocco finale per Yeboa che era veramente al limite dell'offside e di destro ha battuto Antonelli dunque cambia risultato quando siamo al minuto 24 con Yeboa che ha portato in vantaggio il Cittadella nel momento forse in cui l'Arezzo aveva maggior coraggio Teci promette ne ordine Teci il lancio sua sinistra per Di Fiore posizione regolare Di Fiore taglia verso il centro Di Fiore il destro arriva la parata Di Tognolo grandissima occasione per l'Arezzo la prima nella ripresa con Di Fiore che ha ricevuto molto bene palla da parte di Teci si è accentrata è riuscita però a battere a rete si è sovrapposta fra lei e la gioia del gol che si è una difensore ospite del Cittadella Tognolo parte Moscia sul primo palo la palla rimane lì Ferrazza e arriva il pareggio dell'Arezzo con una mezza rovesciata da parte del difensore centrale della squadra in completo bianco che porta in parità il risultato 1 a 1 come siamo al 25 esuto della ripresa bello il calcio d'angolo di Moscia con la palla che arriva una carambola a Ferrazza mezza rovesciata la sua e Tognolo battuto 1 a 1 dunque si riporta in partita da Rizzo con questa conclusione di Ferrazza per lei il primo gol stagionale la prima gioia che riporta in parità questa partita c'è Zorzan vediamo la reazione adesso del Cittadella con Meggiolaro a sua destra riesce a saltare Castrati poi arriva il cross e arriva il 2 a 1 2 a 1 di Yeboah bravissima Castrati ma il Cittadella riacquista subito il vantaggio con Castrati che serve Yeboah che si trova solo davanti ad Antonelli e la trafigge porta aiutato su 2 a 1 mentre rimane a terra Razzoli e Yeboah vera spina del fianco come abbiamo precedentemente detto nel corso della partita di Fiore balla cross al centro Baracchi attenzione a Baracchi che non riesce a girarsi ancora Baracchi dentro l'area di rigore siamo nella lunetta piccola batti e ribatti attenzione a Simeone che trova il gol ma niente è annullato è annullato il gol di Simeone per un fallo forse di confusione da qua su non siamo riusciti a giudicare non possiamo giudicare il gesto perché non riusciamo a vedere benissimo poi è stata una piccola calca quindi non siamo riusciti a vedere quello che è successo però Simeone ha trovato il pareggio ha fischiato prima dietro di gara dunque non c'è nemmeno da parlare di gol annullato Simeone si prosegue ancora ma arriva in questo istante il triplice fischio che sancisce la vittoria del Cittadella per 2 a 1 contro l'Arezzo fatale decisiva la doppietta di Yeboah per la vittoria della squadra Granata a poco è servito il gol del momentaneo pareggio a parte di Ferrazza 24esimo perché Yeboah approfittando di un errore difensivo è riuscita a riportare in vantaggio la propria squadra e a portare i tre punti al Cittadella dunque rimandata la prima vittoria stagionale in casa per l'Arezzo speriamo che avverrà nella prossima gara quella contro il Genoa le ragazze sono state bravissime si sono allenate molto bene durante la settimana sono state precise oggi il campo non ci ha penalizzato ci ha penalizzato sicuramente perché è stato veramente difficile giocare era difficile anche controllare tutti i palloni e non è stato comunque tutto da buttare ho visto comunque un ottimo secondo tempo le ragazze hanno comunque dimostrato che deve esserci e si prepareremo una settimana la partita di Genova con tanta attenzione come si è fatto per queste ultime due settimane si cercherà di andare a Genova con lo stimolo che si è dato in queste ultime due settimane cercando di giocare partita dopo partita quindi le ragazze si alleneranno sicuramente con l'attenzione giusta e speriamo di chiudere questo 2018 con dei punti che ci servono poi per preparare bene il proseguo della stagione ma probabilmente anzi senza probabilmente sicuramente il campo non ha agevolato le nostre doti tecniche sicuramente forse è mancata un po' di cattiveria a livello magari offensivo poi purtroppo due errori difensivi ci hanno penalizzato però io penso che tutta la squadra ce l'ha messa tutta ovviamente giocare in un campo del genere per noi è tanto difficoltoso perché oggi era veramente ingiocabile la palla perciò noi ci abbiamo messo il nostro il campo ha fatto il suo è arrivata un'altra sconfitta ma questo sicuramente non implica che mogliamo perché abbiamo visto contro l'Empoli che siamo una bella squadra siamo un bel gruppo è arrivato tutto un nuovo staff che ci ha dato nuovi stimoli e quindi siamo pronte a ripartire c'è tutta ancora una serie di partite abbiamo ancora tutti gli scontri retti da giocare perciò il calendario ci agevola da questo punto di vista perciò niente perduto e possiamo ancora dire la nostra in questo campionato sicuramente